Allora, la mia attività a Trieste è la rottura dei casti. Occorrono due pietre più una massa. Posizioniamo e rompiamo. È un'attività creditissima, più grande. Ma non è detto che si rompa questo, perché bisogna anche vedere come è fatto il sasso. Questo qui si è rotto. Bisogna anche sapere dare delle belle parti. Questo qui, ad esempio, è difficile che si romperà, però forse posizionando bene, vedete, non si riesce a rompere. Naturalmente bisogna posizionare sempre bene le pietre. Ecco, questo, questo, forse, questo, vedete, si sente proprio dal rumore. Questo qui non si romperà mai. Questo qui si romperà. Si è rotto. Questo non si dovrebbe rompere. Ah, si è rotto, veramente. Devo dire che questa massa funziona. Sì, se non si scheggiasse la massa funzionerebbe meglio. Vediamo questa, sottiletta. No, continuiamo un altro po', dai, facciamo vedere. Agli utenti che cosa si può fare qua, a Trieste. Qua, guarda, sta. Non è bello? Non è stupendo? Eh, visto? Guarda. Si possono fare anche direttamente sulla pietra, vedi? Vedete? Se uno prende, e va, sulla pietra, si può rompere direttamente utilizzando questo come base, vedete? Si può fare anche così. Prende questo, si spacca, si rispacca, vedi? Ci sono tante cose, questo qui, ad esempio, è carino questa parte. Lo so, in 23 pezzi, guarda. Vabbè, possiamo anche terminare adesso. C'è... C'è... C'è...